Non c'è mai stato un allenamento dall'inizio dell'anno in cui abbiamo visto Walter Novellino calmo. La calma non è una parola che appartiene assolutamente al suo vocabolario. Sentite le urla del tecnico che sta lavorando intensamente con la squadra alle mie spalle perché sabato arriva il Palermo che sarà ferito, arrabbiato dopo il 3-0 subito dal Cittadella. Allora bisognerà come al solito mettercela tutta, soprattutto non perdere la continuità perché all'inizio del campionato è la prima volta che l'Avellino conquista tre risultati utili consecutivi. Tre saranno le novità di formazione, almeno quelle che stiamo vedendo in questi giorni. Marchizza potrebbe prendere il posto di Kresic in difesa, Paghera sostituire lo squalificato di Tacchio ed è aperto il ballottaggio sulla destra tra Laverone e Molina visto che Falasco sembra candidato ad occupare la corsia di sinistra. Confermati in attacco Ardemagni e Castaldo che dopo le fatiche di questa mattina non si sono allenati e che rivedremo con ogni probabilità, però vedremo sicuramente in campo nei prossimi giorni. Questo è quello che è successo sul fronte del lavoro sul campo, però ci sono importanti novità societarie che riguardano Michele Gubitosa il quale dopo la sortita della scorsa settimana, ricorderete, durante Linea Verde Sport non ha mollato la presa, sta continuando a verificare i conti dell'US Avellino 1912. È chiara, è ferma, è forte la sua volontà di entrare in società come lo scopriremo probabilmente nel corso della settimana. Ricordiamo che venerdì c'è anche, ci dovrebbe essere il confronto, il condizionale d'obbligo perché la Curva Sud sta lavorando al meglio per poter fare in modo che questo confronto tra loro e Taccone sia svolto secondo regole ben chiare. Stanno prima di tutto trovando il luogo. L'hotel della Villa è occupato perché c'è il Palermo, quindi o si sposteranno in un altro albergo oppure troveranno un altro tipo di soluzione, si entrerà a questo evento soltanto regolarmente accreditati. E poi l'ultima notizia di giornata riguarda Massimiliano Taccone, il direttore generale proprio per questi movimenti societari, per l'ingresso di Ferullo, per le tensioni con i tifosi starebbe pensando di dimettersi. In realtà era già successo, ricorderete, l'anno scorso quando ci furono momenti di tensione con la Curva poi tutto rientrò. Vedremo se anche questa volta succederà la stessa cosa.